Il prossimo 22 febbraio alle 10.30 nella sala dello University Club dell'Unical si terrà la cerimonia di premiazione della Norte dei Ricercatori, edizione 2015, realizzata nell'ambito del progetto Super Science Me, che ha coinvolto contemporaneamente 300 università europee. Si tratta, spiega il Rettore Gino Miro Clicrisci, del doveroso riconoscimento che l'Ateneo intende attribuire a quanti con impegno, passione e competenza hanno contribuito al successo della manifestazione. Sarà anche l'occasione per sottolineare ancora una volta il prezioso sostegno ricevuto dagli sponsor dell'iniziativa, ma anche la collaborazione con le istituzioni territoriali cui l'Ateneo tiene molto e per il quale profonde ogni sforzo affinché produca risultati sempre più soddisfacenti.